Siamo contentissimi, il regalo migliore è per Natale, insomma non essere tornati a casa almeno ha fatto tre punti in saccoccia, contro la terza in classifica e loro durante il loro ufficio stampa aveva dichiarato che noi corsi sulla carta eravamo inferiori, credo che oggi abbiamo dimostrato il contrario, siamo stati bravissimi e almeno ci siamo levati questo sassolino dalla scarpa. Grazie!